La vita è una figata. Anticipazioni della prima puntata. Grande attesa per il talk show condotto dalla simpaticissima campionessa paralimpica. Nella prima puntata saranno ospiti la cantautrice Paola Turci, Pier Francesco Di Liberto, in arte Pif, che svelerà come si è riuscito a vincere la sua timidezza attraverso la telecamera e parlerà del suo impegno contro le mafie. Nella puntata Pifle chiede se è fidanzata, la risposta, ma anche se fosse, lo vengo a raccontare in conferenza stampa, ride, con Paola Turci fa le smorfie allo specchio, vedi che le mie cicatrici sono più brutte dice la cantante, perché quando faccio così, gli occhi sono diversi, bebevi e ride, sei sicura, non lo so mica, inoltre, conosceremo Andrea Caschetto, l'ambasciatore del sorriso, un giovane ragazzo siciliano che a causa di un delicato intervento chirurgico, subito a 15 anni, ha perso la memoria e soffre di amnesie, dunque tutto pronto per il debutto, ma bebe è sempre un cuore olimpico, infatti ha dichiarato che che questa della tv è solo una parentesi, ora la testa di nuovo a legare. Mi sono divertita un sacco, è stata un'esperienza bellissima, ho preso tutto come un gioco anche se all'inizio è stato difficile, dice bebevio, non avevo studiato nulla e la parte divertente del programma è proprio questo escivallo, è stata una cosa pazzesca, un bel gioco, e per ora non voglio pensare al prossimo anno, ma pensare alle mie cose, ora c'è il mondiale, questa della tv era la parte divertente, ma ora voglio pensare solo al mondiale.